Amplificatore operazionale, con l'ingresso un condensatore, questo è il trasmettitorino, il collegamento su fibra ottica, Amplificatore schermato con un operazionale di bassa frequenza, questo è l'ingresso, praticamente un pezzo di filo, il trasmettitore mettendolo quasi a contatto col filo, si vede che questo viene demodulato dal pointing, ecco, questo è avvicinando l'antenna trasmittente al filo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.